Ma quali sono i benefici e i potenziali benefici che una persona che vada a prendere l'ashwagandha, una pianta utilizzata da tantissimo tempo nella medicina indiana, sul nostro corpo? Online se ne sentono di tutti i colori, persone che non comprendono gli studi, persone che li comprendono ma magari li portano male, poi ci sono anche chiaramente le persone che vanno a riportare le cose correttamente. Quindi ho detto andiamoci a vedere i 5 benefici che una persona si può aspettare effettivamente andando a prendere l'ashwagandha, così una volta per tutte, almeno per il momento, facciamo chiarezza. Poi chiaramente se ci fossero nuove informazioni, come sempre, le andrò a riportare qui. Perché sì, ecco, se è la prima volta che vedi un mio video, non sai chi io sia, il mio nome è Eduardo Baldini, sono qua da lontano 2016 e sono una delle pochissime persone a parlare di integrazione e a non aver mai promosso integratori con il codicino sconto perché un brand mi pagasse lo stipendio. Ti sarai accorto infatti che online è pieno di persone che ti dicono compra questo semplicemente perché hanno un brand alle spalle e gli dici devi promuovermi questo composto altrimenti questo mese niente stipendio. Ecco, qui non funziona in questo modo. Noi qui vediamo ciò che gli studi ci dicono e li andiamo ad applicare nell'integrazione di tutti i giorni. Sorridevo perché dopo andremo a parlare di determinate cose. Allora, il primo beneficio di cui dobbiamo andare a parlare parlando di ashwagandha è il beneficio che ci può andare a dare come pianta adattogena. è una sostanza che aiuta il corpo a gestire meglio lo stress. Per questo motivo è possibile aspettarsi andando a utilizzare la ashwagandha per abbastanza tempo. Questa sarà una delle tematiche che si ripresenterà più frequentemente nel corso di questo video qua. Ecco, prendendola per abbastanza tempo è possibile aspettarsi una miglior gestione da parte del corpo dello stress, un abbassamento dell'ansia e un abbassamento generale del cortisolo. Cortisolo su cui ho anche intenzione di fare un video dedicato solo su quello, però ecco, lo cortisolo è l'ormone dello stress. Noi possiamo andare ad abbassare l'ormone dello stress e quindi poi avere i benefici da un punto di vista di stress e di ansia. E fra l'altro l'abbassamento del cortisolo ci può andare a dare anche dei benefici da un punto di vista ormonale, ma ne parleremo dopo. E come dicevo, la sua azione è possibile aspettarsela con il passare delle settimane di continua assunzione. Perché sì, poi dopo non ti preoccupare, parleremo di dosaggi, modalità e tutto quanto. Però ecco, è importante sapere che i benefici la ashwagandha ad oggi sembrerebbero andarcene a dare su un'assunzione quotidiana. Quindi non lo prendo all'occorrenza, ma la prendo quotidianamente. Attenzione, potrebbe dare dei benefici da un punto di vista di abbassamento dello stress e abbassamento dell'ansia preso una volta ogni tanto, ma c'è meno materiale e sicuramente i massimi benefici si sono visti proprio su un'assunzione. Tendenzialmente molto spesso si parla di almeno 8 settimane. E l'abbassamento del cortisolo risulta essere importante, nel senso che in un arco temporale di 60-90 giorni ci si può aspettare una riduzione e un abbassamento del cortisolo in soggetti stressati, cosa che ormai molte persone per via della propria vita quotidiana si ritrovano ad essere dal 20 al 50%. E quindi è un qualcosa di sicuramente interessante. E collegato a questo aspetto c'è il beneficio numero 2. Fra l'altro se non ti sei ancora iscritto o iscritta, se ti iscrivi, così eviti di dover ascoltare la male informazione che c'è in giro. Tu vieni qui, ci sono le informazioni che le metto nel video, informazioni scientifiche con gli studi e tu sei una botte di ferro. Beneficio numero 2. Può andare ad aiutare anche a dormire meglio. Questo perché? Perché chiaramente se una persona ha difficoltà a dormire e si ha un abbassamento dell'ansia, un abbassamento dello stress, è possibile, anche se non è l'unico meccanismo d'azione plausibile per cui la shwaganda dovrebbe andare ad aumentare sia la quantità, ok? Quindi quante ore riesce a dormire senza svegliarti, sia la qualità del sonno. Ecco, non sembrerebbe essere l'unico motivo l'abbassamento del cortisolo, dello stress e dell'ansia. Sembrerebbero esserci altri plausibili meccanismi. E ecco perché ho detto quantità e qualità. Perché noi quando parliamo di sonno ci sono tre variabili su cui eventualmente possiamo cercare di andare ad impattare. La quantità, quindi quante ore. La qualità, quindi quanto profondo andiamo nei cicli del sonno. E poi in realtà c'è anche l'aspetto di costanza. Quindi quanto riusciamo a rispettare il fatto di andare a dormire più o meno sempre nella stessa fascia oraria. E questo, attenzione, perché è interessante? Perché si sono riscontrati i benefici senza oggetti che soffrono di insomnia, senza oggetti che non soffrono di insomnia. E questo è interessante perché molto spesso si parla di integratori che vanno ad agire e questo si ripresenterà anche poi nei benefici successivi solo su persone che abbiano problematiche. Gravi magari. Invece in questo caso qua, anche su soggetti sani che semplicemente sono stressati, si sono visti benefici. Chiaramente in persone con problematiche più importanti i benefici risultano essere maggiori, ma anche benefici in soggetti sani. E anche in questo caso i benefici risultano essere su un'assunzione idealmente quotidiana per abbastanza settimane. Normalmente si parla sempre intorno alle 8 settimane. Attenzione, non è che i benefici non li avremo magari dalla prima assunzione, perché come dicevo possiamo già avere benefici da un utilizzo spot, quindi da un utilizzo in acuto, un utilizzo occasionale, ma i massimi benefici risulterebbero essere da un'assunzione quotidiana. E qui, prima di parlare dei prossimi benefici, affrontiamo anche un attimo la tematica, l'affronteremo anche dopo, però andiamo a parlare della tematica dei dosaggi. I dosaggi, stando alle informazioni scientifiche, non sono certe al 100%, però quello più plausibile, quello più utilizzato nella maggior parte degli studi è di 600 mg. 600 mg, attenzione, di un estratto, non di polvere, perché molto spesso online, su Amazon e non solo, si trovano non estratti di ashwagandha, ma si trovano polvere. E la polvere non è qualitativa, come invece un estratto. E quindi tu vuoi un estratto, e vuoi che in questo estratto sia chiarito la percentuale di principio attivo. In questo caso qua sono i witanolidi, che è proprio ciò che ci va a dare il beneficio. E qui la maggior parte degli studi utilizzava 600 mg, per tutti i benefici che adesso noi andremo a vedere, 600 mg al 5% di standardizzazione di principio attivo, con la materia prima utilizzata KSM. E finalmente, posso andare a chiarire perché stavo sorridendo all'inizio del video, perché ecco, non sono mai stato sponsorizzato da un brand, non ho mai accettato le promozioni, come molto spesso ricevo per email, queste schifezze qua dove mi offrono di promuovere gli integratori con il codicino sconto, ma finalmente ho potuto rilasciare il mio nuovo composto, di cui purtroppo in questo momento in cui sto registrando il video, perché sto registrando il video prima, non ce l'ho ancora sotto mano, il nuovo composto, duro duro, che è il mio composto scientifico, che rispetta tutte le linee guida scientifiche, con la materia prima di miglior qualità, tutto con la standardizzazione chiarita, tutto con i dosaggi giusti, provati scientificamente, tutto della miglior materia prima, un composto per la libido e per il testosterone, chiaramente all'interno, supponiamo sia questo, all'interno c'è il giusto dosaggio di ashwagandha, 600 mg, perché poi adesso ne andremo a parlare, può avere dei benefici rilevanti sul testosterone, e quindi non so se nel momento in cui vedrai questo video, ci saranno ancora unità disponibili, perché non ce n'erano tante, il lancio è partito la mattina in cui uscirà questo video qua, quindi è possibile che ne siano rimaste alcune, che sia finito, che ce ne siano tante, non lo so, io la pagina la lascio, giù in descrizione e nei commenti, è la miglior pagina di presentazione, giù in integratore, quindi vacci a dare un'occhiata, anche solo per curiosità, ne imparirai di più all'interno di quella pagina, che su qualsiasi sito web, beneficio potenziale numero 3, miglioramento delle prestazioni sportive, ora, ci sono diversi aspetti, in cui la ashwagandha, può andare ad agire, prima di tutto, sulla forza, sia da un punto di vista, di forza della parte alta del corpo, sia della forza della parte bassa del corpo, anche un miglior utilizzo da parte del corpo dell'ossigeno, e si è visto infatti un miglioramento della VO2max, quindi del massimo quantitativo di ossigeno, che il corpo riesce ad utilizzare in un'attività molto intensa, e questo ci dà un feedback, su quanto bene funzioni il nostro cuore, e i nostri polmoni, e attenzione, anche in questo caso, benefici anche in soggetti atletici, atletici e sani, e questa è la cosa molto interessante della ashwagandha, si ripresenterà anche poi successivamente, ovvero che non solo funziona su magari soggetti non allenati, dove è possibile che ecco sia più facile vedere i risultati, no, anche in soggetti atletici e sani, e questo è molto interessante, e si è visto anche, sempre parlando di questo terzo beneficio, un miglioramento delle capacità di recupero, dell'endurance sportiva, quindi della resistenza, per via dell'aumento dei livelli di emoglobina, mentre per quanto riguarda benefici sull'aumento di massa muscolare, e benefici in termini di perdita di grasso, risulterebbero invece solamente dedicati a soggetti non allenati, quindi è un qualcosa ancora di non così tanto confermato, ma gli altri benefici hanno dimostrazioni interessanti, da comunque considerare, e anche in questo caso qua, i benefici si sono visti con un'assunzione di 8 settimane almeno, non che tu prendendo la ashwagandha di nuovo in acuto, non possa notare i benefici, assolutamente sì, però andandola a prendere quotidianamente al giusto dosaggio, che come dicevamo noi poco fa è di 600 mg, ad oggi perché non sembrerebbe che andando ad utilizzare un dosaggio maggiore, noi avremo benefici maggiori, quindi una persona può anche andare a prendere di più, ma non si deve aspettare maggiori benefici, non è nemmeno detto che ad una percentuale di principio attivo maggiore, rispetto al 5% dei 600 mg, che è 30 mg di principio attivo, una persona si possa aspettare di più, quindi ad oggi, ed è il motivo per cui all'interno di duro duro, ho utilizzato proprio questo dosaggio della miglior materia prima, proprio perché era quello che gli studi utilizzavano nella maggior parte dei casi, quarto potenziale beneficio, che poi è il motivo per cui ho lanciato questo composto qua, ovvero che risulta ad essere ad oggi, l'integratore più interessante, più promettente, con più materiale scientifico, riguardante tutto l'aspetto di testosterone, con potenziali effetti anche sulla libido, e su tutto l'aspetto di fertilità, adesso ti spiego, allora sicuramente l'aspetto di cui parlavamo prima, ovvero il fatto che possa andare ad abbassare i livelli di cortisolo, del 20-50%, è sicuramente un aspetto rilevante, sia sull'aspetto di libido, sia sull'aspetto di testosterone, perché? Perché il cortisolo è un nemico del testosterone, va bene che ogni tanto si alzi, quindi noi non lo vogliamo eliminare, ma vogliamo che non sia continuamente alzato, perché altrimenti, sì, può andare ad impattare negativamente sul testosterone, quindi, sicuramente questo primo aspetto ormonale, ci interessa da un punto di vista di testosterone, ma non solo, infatti, con un dosaggio di 500-600 mg, di nuovo, torniamo sempre intorno ai 600 mg di cui parlavamo prima, cosa si è visto? Si è visto un potenziale incremento del testosterone, dell'LH, dell'FSH, dei parametri dello sperma e della libido, e di tutto il funzionamento sessuale, compreso potenziali benefici anche da un punto di vista di erezione, per questo il nome duro duro, come la coda di un canguro. Cheat. Chiaramente, i benefici massimi si vedono su soggetti che sono infertili, o che comunque hanno livelli di testosterone sotto la norma, perché? Perché è normale, cioè i benefici si vedono massimi su soggetti che hanno un impatto negativo sul proprio testosterone, ma la cosa interessante è che vi sono dimostrazioni attuali, poi se cambieranno, io la formulazione la cambio, perché ecco, ci sono i brand che non cambiano mai la formulazione, cambiare una formulazione costa 160 euro, più il costo di fare tutti i test, se un brand non cambia le formulazioni, sono dei pagliacci, non ti preoccupare che se cambiano le informazioni, io la vado a cambiare, e comunque tornando a noi, nonostante che i benefici massimi si siano visti su soggetti con livelli bassi, comunque ci si può aspettare un incremento anche in soggetti sani. Infatti, stando alle informazioni odierne, noi raccogliendo il materiale scientifico, abbiamo un incremento minimo del 10%, e un incremento massimo del 40% dei livelli di testosterone, che non è poco, se soprattutto una persona ai livelli bassi, pensare ad un potenziale incremento fino al 40%, e insomma sono miglioramenti che sicuramente possono cambiare proprio il proprio benessere, i propri risultati fisici da un punto di vista di aumento di massa muscolare, di perdita di grasso e quant'altro. Su soggetti sani, è possibile con il materiale odierno, senza puntare a strafare, senza dirti cazzati come normalmente le persone là fuori danno, è possibile aspettarsi, guardando il materiale scientifico, un incremento intorno al 15%, che se tu mi dici, edo, può fare tutta sta differenza del mondo, probabilmente un incremento del 15% non farà tutta questa differenza su un soggetto sano, ma la cosa interessante è che la maggior parte degli altri integratori, che normalmente magari gli influencer là fuori, i brand scappati di casa promuovono, magari se funziona, funziona solo su persone infertili, mentre in questo caso qua, noi abbiamo studi che ci dicono che potenzialmente funziona anche su soggetti sani, ed è questa la cosa interessante, soggetti sani, con livelli normali, non con livelli solamente bassi, mentre in questo caso abbiamo entrambe, e questo è interessante, oltre a ciò svolge anche una funzione antiossidante a livello dei testicoli, e questo promuove chiaramente una miglior fertilità, e anche potenzialmente una miglior produzione di testosterone, è perché è lì che viene prodotto, e anche in questo caso è bene andarlo a prendere quotidianamente, per almeno 8 settimane per vedere benefici, e quinto e ultimo punto, l'aspetto cognitivo, sia da un punto di vista di protezione, sia da un punto di vista di prestazioni, infatti ad oggi sembrerebbe promuovere la formazione dei neuroni, e la protezione di essi, un miglioramento dell'attenzione del focus, e sempre per via di questa sua azione antiossidante, abbiamo già parlato degli antiossidanti, ovvero di quei composti che vanno a proteggerci dallo stress ossidativo, che può andare a provocare problemi di salute, e un accelerato invecchiamento, ecco anche in questo caso qua aiuta alla formazione per esempio della memoria potenzialmente, alla un maggior focus, e anche in questo caso qua in un arco temporale di 8 settimane, e con tutti questi benefici chiaramente adesso dobbiamo parlare dei potenziali effetti collaterali, perché giustamente una persona può dire, cavolo comunque di benefici potenziali, ce ne sono diversi dalla salute all'aspetto cognitivo, al testosterone alla libido, cavolo prestazioni sportive, mi interessa ma quali effetti collaterali, dov'è la magagna? Ad oggi stando alle informazioni scientifiche se una persona acquista un integratore di qualità, analizzato chiaramente da un laboratorio terzo per ulteriore sicurezza, per esempio io tutti i miei integratori scientifici li produco, chiaramente con la miglior materia prima, ma in più li faccio anche analizzare da laboratori terzi, e le analisi le fornisco sempre nelle pagine di presentazione, ecco se una persona va a rispettare la selezione corretta, ad oggi non sembrerebbero esserci effetti collaterali nel breve periodo, con breve periodo intendiamo tre mesi, dopodiché infatti, così come consiglio per questo integratore qua, ogni tre mesi è bene prendersi una pausa di due, tre settimane, per poi riniziare, quindi staccare, giusto per dire, io nel dubbio non so, se nel lungo periodo ci possono essere effetti collaterali, quindi sai che io smetto, così mi tolgo tutti i potenziali dubbi, e poi rinizio, tanto i benefici che noi abbiamo visto, ci si possono aspettare dopo otto settimane, in realtà ci si può aspettare anche prima, però i benefici massimi sono visti intorno alle otto settimane, io prolungo, arrivo fino ai tre mesi, che è lo standard che la maggior parte degli studi va a utilizzare, e poi stacco, e poi riprendo, così sono a posto, a differenza invece comunque di composti, di dubbia provenienza, soprattutto composti provenienti dall'estero, dove i controlli sono molto meno stringenti, rispetto a quelli prodotti in Italia, o comunque prodotti in nazioni, dove si controlla, ecco il rischio è che magari vi siano potenziali sostanze pericolose, ma semplicemente come fatto, che la pianta le assorbe dal terreno, e che quindi, una poi una persona se lo ritrova nell'integratore, però tolto a questa problematica, quindi se la materia prima è buona, e se chiaramente, uno, il dosaggio è giusto, quindi ci sono brand che producono la shwaganda con 100 mg, 80 mg, 200 mg quella roba inutile, perché noi abbiamo detto che per massimizzare i benefici, vogliamo 600 mg al 5%, che è ciò che gli studi vanno ad utilizzare, ora, per quanto riguarda invece le modalità d'assunzione, di dosaggio abbiamo già parlato, per quanto riguarda le modalità, idealmente, le vogliamo andare a dividere questi 600 mg in due assunzioni giornaliere, 300 mg al mattino a colazione, 300 mg alla sera, prima di andare a dormire, e questo volendo ci può anche andare a dare, come dicevamo prima, quel beneficio, quei 300 mg prima di andare a dormire, i benefici in acuto, quindi magari ci aiuta sin da subito a dormire meglio, oltre ai benefici sul medio e lungo termine, e quindi, io, le istruzioni te le ho date, la shwaganda è un composto di cui parlo ormai, da anni all'interno del mio percorso, la rivoluzione sull'integrazione, che, giusto per far comprendere come questo canale sia privo di conflitti di interesse all'interno, oltre a dare tutte le istruzioni su come utilizzare qualsiasi integratore, per l'aumento di massa muscolare, perdita di grasso, miglioramento sportivo, aumento del testosterone, aumento della libido, prostata, dormire meglio, lavorare meglio, avere più energie, e tutto, vado a fornire i composti dei vari brand di integrazione, che io vado ad analizzare senza conflitti di interesse, che consiglio. Ecco, tu pensa che io all'interno vado a consigliare il competitor del mio nuovo composto duro duro come la coda di un canguro, perché? Perché qua, ecco sì, non ci sono conflitti di interesse, ho prodotto un composto, perfetto, tanto probabilmente sarà sempre sold out, e ti vado a consigliare anche i miei competitor, che chiaramente abbiano fatto qualcosa di qualitativo, quindi non la spazzatura. Quindi se vuoi un composto veramente assurdo, per libido e testosterone, il meglio che c'è è duro duro come la coda di un canguro. Se vuoi imparare tutto ciò di cui hai bisogno in campo integrazione, la rivoluzione sull'integrazione è una guida digitale, io lo aggiorno una volta al mese, tra l'altro è proprio uscito un aggiornamento recentemente sul testosterone e libido, su tutto l'aspetto di stress, di umore, di ansia, molto interessante. Gli aggiornamenti sono gratuiti a vita, se hai il mio supporto a vita, così tutte le domande e tutti i dubbi, tu hai la guida, te le togli perché nella guida io la vado ad aggiornare, ma hai delle domande, c'è la mia mail, mi scrivi, entro 24 ore ti rispondo, sei a posto, e in più, vi consiglio tutte le marche di integrazione, dei vari composti, dei vari brand di integrazione, ci sono incomposti per tutte le tasche, e quindi, se vuoi fare le cose sul serio, su in campo integrazione, questo è il posto giusto. Che a dire, per qualsiasi domanda sui miei percorsi, siccome funzionassero, sui miei integratori scientifici, c'è un'email, c'è il numero whatsapp, risponderà Alessandro o Maddalena a tutte le domande del caso, sono i miei aiutanti che sono lì apposta per rispondere alle vostre domande, noi, come sempre, ci vediamo, tutti i geni all'una, sempre su questo canale, buona integrazione a tutti, ciao a tutti, peace.